Scene da arancia meccanica, quelle della scorsa notte in piazza Le Laudi a Pescara, dove un terzetto di adolescenti criminali ha preso di mira quattro ragazze per derubarle con violenza delle loro borse. La baby gang è entrata in azione a mezzanotte e mezza, ma quattro ore prima uno di loro era entrato già in possesso di un'auto rubata a Francavilla al mare, usata per il ride criminale. I tre hanno inseguito altrettante ragazze del quartetto. A una è stata rubata la borsa, le altre due hanno reagito fuggendo. Una è caduta a terra riportando una contusione, ma ha salvato la borsa perché il suo aggressore l'ha lasciata lì, decidendo di ripiegare, dopo che un altro scippatore è stato inseguito dalla ragazza più coriacea, la quale non si era persa d'animo. La scena molto movimentata ha dunque richiamato l'attenzione di un automobilista. I malviventi si sono diretti di corsa con il bottino dimezzato verso il lungomare in direzione del porto turistico. Il testimone non li ha però persi di vista e li ha individuati mentre raggiungevano l'auto rubata parcheggiata col motore acceso nei pressi dell'ex aurum. Il suo contributo all'arresto del terzetto è stato determinante dopo l'intervento degli uomini della squadra volante di Pescara diretti dal dottor Di Blasio. In poco tempo gli investigatori sono riusciti a individuare e arrestare per rapina impropria due ventenni Alessandro Medori di Francavilla e Francesco Marino di Chieti finiti nel carcere San Donato e il loro complice sedicenne di Francavilla, ora ospite della casa di prima accoglienza dell'Aquila. Non si tratta dell'unico episodio di scippo avvenuto negli ultimi tempi sul lungomare tra Francavilla e Pescara. Proprio ieri pomeriggio due azioni erano state tentate ai danni di anziane signori a Francavilla e sempre nel weekend erano stati denunciati altri episodi. Non si esclude che possano essere attribuiti agli scippatori della notte scorsa.